Il tempo non la tocca, Melotti si fa trovare pronto su un secondo palo, quasi a porta vuota. Tripleta del gallo, del giro esattamente di 8 minuti, ha firmato 3 gol, sapeva già che il pallone sarebbe caduto unissimo, piazzato all'altezza del secondo palo, vedete che i tifosi restano impressionanti.